Le nostre cose abbiamo fatto, le cose che abbiamo fatto nel ritiro, siamo andate giustamente con carini di lavori importanti, ora ci vediamo questi tre giorni di valenza e poi lavoreremo al 16. Lasciate la mente perciò quest'anno sono carini, il gruppo è un grande gruppo, ci sono ragazzi molto umili, quindi tutti si mettono a disposizione per quello che chiede il mister, quindi spero che arriveremo alla condizione il prima possibile e faremo molto bene secondo me.